voci della chiesa iblea un programma della redazione di radio caris in blu ragusa amiche amici che siete in ascolto un caro saluto da denise arcieri continuiamo con i nostri appuntamenti dedicati alla settimana santa insieme a don mario modica e oggi parleremo nello specifico del sabato santo ciao mario ciao denise sabato santo è il giorno del silenzio e del raccoglimento della meditazione dove i fedeli sono chiamati a rivivere il mistero del riposo di gesù nel sepolcro e la sua discesa agli inferi è un silenzio che parte dal grido di dolore del venerdì e si trasforma poi in grido di gioia con l'annuncio della resurrezione durante la veglia pasquale come dovrebbe essere accolta la risonanza di questo silenzio fecondo nelle nostre vite il sabato santo penso che sia il grande dimenticato tra i giorni del triduo pasquale questo perché forse ancora a distanza di anni dalla riforma della settimana santa che volle più dodicesimo ci portiamo avanti ancora delle abitudini delle consuetudini che sono legate a quel tipo di scansione del tempo della settimana santa mi riferisco principalmente a quel periodo in cui la veglia pasquale veniva anticipata a mezzogiorno quindi il sabato santo davvero passava in sordina la riforma della settimana santa recupera il senso di questo giorno e invita la comunità cristiana a viverlo così come dovrebbe essere vissuto a livello liturgico il messale stesso da soltanto delle indicazioni ci dice che il sabato santo è il giorno in cui la chiesa sosta presso il sepolcro del signore meditando la passione la morte che ha celebrato proprio nel giorno del venerdì e contemplando la discesa agli inferi in attesa della risurrezione un grande mistero che la chiesa è chiamata a contemplare nel silenzio e nel riposo si dice che il giorno a liturgico il sabato santo in realtà forse è più bene dire è il giorno a eucaristico perché come nel giorno precedente non si celebra l'eucarestia né si riceve l'eucarestia in questo giorno dico non a liturgico perché in realtà la preghiera della chiesa ancora scandisce le ore di questa giornata proprio attraverso la liturgia delle ore tra l'altro con le classiche ore canoniche possiamo dire ma caratterizzate da una ricchezza di testi e di significati che davvero permettono alla comunità di entrare nel clima di questo giorno principalmente la discesa agli inferi è un mistero che ci viene difficile entrarvi dentro questo mistero è proprio il rimanere di gesù nella condizione della morte quindi sì siamo spesso stupiti nel contemplare la passione la morte del signore perché il suo farsi solidale con gli uomini l'ha portato fino alla morte ma in realtà cristo vi è rimasto nella morte questa discesa agli inferi è contemplata in particolare da un autore del quarto secolo la cui omelia ci viene riproposta nella liturgia delle ore per guidarci in questo giorno al senso di questo giorno questa discesa agli inferi viene contemplata come veramente una scena straordinaria cristo che discende nel regno dei morti e lì va a incontrare il primo uomo ad amo lo prende per mano e inizia un dialogo stupendo con lui cristo fa ricordare ad ad amo che nonostante lui fosse dio si è fatto solidale con gli uomini fino alla morte e adesso grazie a questa morte può trascinare prendere per mano da ad amo in poi tutti gli uomini che hanno atteso la venuta del messia e li riporta con sé alla vita nuova proprio il monito di cristo è molto significativo dice ad ad amo svegliati tu che dormi e risorgi dai morti cristo ti illuminerà e io per te mi sono fatto uomo per te adesso ho sopportato la morte risorgi con me svegliati con me e veramente contempliamo la solidarietà più totale di cristo nei confronti dell'umanità e anche della sua condizione di morte il sabato santo è anche il giorno in cui si celebra l'ora della madre ci si concentra infatti sulla figura di maria sul suo dolore sulla sua speranza per la resurrezione e siamo invitati a riflettere sul sì condizionato di maria si tratta di un'antica liturgia che alterna salmi letture e brevi preghiere ritmate ma spiegaci un tipo tu mario com'è nata quali sono le origini di questa liturgia e com'è articolata nello specifico la figura di maria è una figura sempre presente nella liturgia della chiesa anche quando non specificatamente si celebra una sua festa una sua memoria e lo è evidentemente anche presente nella celebrazione della pasqua soprattutto questo aspetto si evince nelle forme più genuine della pietà popolare ad esempio perché davvero guardare a maria come donna e madre che vive veramente legata al figlio la sua passione la sua morte ha sempre commosso il sentire popolare però nella liturgia maria trova anche il suo posto più bello e più esatto e anche nel triduo pasquale il suo posto è rispettato lì dove maria diventa l'esempio per i credenti nell'entrare proprio attraverso la morte di cristo nel mistero pasquale maria è presente al calvario ce lo testimonia l'evangelista giovanni evidentemente maria anche se i vangeli non ce lo riportano ha seguito il suo figlio nelle ore più tragiche della sua vita e questo ha suscitato sempre nella chiesa una grande tradizione di componimenti di preghiere di inni che cantano questo partecipare di maria alla passione alla morte del figlio pensiamo al famoso stabat mater che racconta proprio il dolore di maria ai piedi della croce di questa donna forte che rimane lì davanti al figlio morto con la speranza già della risurrezione a partire dalle liturgie delle chiese orientali anche la chiesa latina in occidente ha sviluppato questa forma celebrativa dell'ora della madre in oriente questa celebrazione nasce come i cosiddetti lamenti della madre e dei discepoli quindi un momento in cui si contempla il cristo morto attraverso gli occhi la voce il cuore di maria in occidente questa tradizione vista anche la grande risonanza popolare della devozione mariana che nelle comunità molto diffusa questa tradizione è stata importata e diventa il momento in cui la comunità si prepara a fare la solenne professione della sua fede nella veglia pasquale attraverso la presenza e la compagnia di maria che la donna della fede per eccellenza e la donna della fede forte davanti alla croce davanti al sepolcro del signore ed è la donna della speranza la celebrazione in sé dell'ora della madre una celebrazione che è stata strutturata dalle conferenze episcopali soprattutto nel periodo dell'anno mariano parliamo della fine degli anni 80 cercando di creare una celebrazione che potesse accompagnare i fedeli e collocare maria al posto giusto in questo momento senza fermarsi troppo al lato emotivo che è quello che spesso prende il sopravvento nel cuore dei fedeli guardando a maria ma guardando alla sua figura come ponte tra noi e cristo e come donna che ci fa attendere la resurrezione che non ci fa fermare qua alla croce al sepolcro la celebrazione in realtà si svolge in maniera molto semplice sono diversi testi della parola di dio e dei salmi che accompagnano la meditazione e il tutto viene fatto dinanzi alla croce o all'icona del cristo deposto accanto viene messa un'immagine di maria con una lampada accesa segno della speranza mi piace un testo che ho trovato in una proposta di questa celebrazione che l'omelia di un padre della chiesa un certo giorgio di nicomedia che immagina i vangeli dicevo non ci raccontano tutto nei dettagli la presenza di maria al sepolcro ma questo padre cerca di immaginare la scena di maria seduta accanto al sepolcro e lui come orante inizia questo dialogo con gesù morto nel sepolcro e dice come hai annunciato a maria la gioia della tua nascita nel suo grembo adesso noi siamo in attesa che tu annunci a lei la gioia della resurrezione maria emerge come la figura di colei che già nel suo cuore sentiva il fremito della resurrezione e ritornando anche alla vita nostra quotidiana spesso fatta di tanti dolori di tante sofferenze veramente avere maria come compagna significa averla non soltanto come conforto perché lei ha patito il dolore più grande per una donna che l'ha perdita di un figlio ma averla anche come colei che ci accompagna oltre il dolore della sofferenza e il dolore della morte e guarda già la resurrezione ti chiederei quindi di concludere con un tuo pensiero rivolto allo sguardo della resurrezione quindi di come vivere questo momento di attesa l'attesa della resurrezione andrebbe davvero vissuta in maniera forte se ci riferiamo al contesto nostro locale in cui viviamo le tradizioni della pasqua e le celebrazioni pasquali il sabato santo dicevo all'inizio passa in sordina perché oltre al proiettarsi già la gioia della pasqua vi anche un complesso di preparativi nelle case nelle parrocchie che ci riportano già la gioia della pasqua e a volte forse abbiamo anche quel timore a restare lì presso il sepolcro del signore in questo giorno anche i segni ci parlano andando in chiesa dovremmo trovare soltanto la croce al centro tutto spoglio perché è il giorno del grande riposo ma questo serve anche a noi a comprendere la nostra dimensione di battezzati perché se nella veglia pasquale ascolteremo anche dalle parole di san paolo che la nostra vita di credenti è una vita nella morte nella resurrezione dobbiamo necessariamente passare per la morte di cristo e anche sostare con lui nel sepolcro la lettera agli ebrei che ci viene proposta nel giorno del sabato santo ci dice questo entriamo con cristo nel suo riposo per risorgere con lui ecco quindi è una necessità rimanere presso il sepolcro del signore come anche nella nostra esperienza umana è una necessità a volte fermarsi e meditare sulla perdita per esempio di una persona cara e non subito fare un salto alla vita di tutti i giorni penso che sia la cosa più normale la stessa dinamica dovrebbe avvenire nel nostro cammino di fede soprattutto celebrando la pasqua del signore e poi sostare presso il sepolcro ci fa guardare a cristo come a colui che è compagno nel nostro dolore è compagno con noi nella morte è una morte che non può rimanere il punto definitivo della nostra vita ma è soltanto un passaggio per poter acquisire quella vita nuova che ci è promessa da lui stesso ringrazio don mario modica per essere stato con noi anche oggi grazie mario grazie a te denise un saluto a tutti i radio ascoltatori e le radio ascoltatrici augurandovi davvero di saper sostare e vivere bene questo giorno se lo ti ringrazio anch'io tutti i radio ascoltatori e le radio ascoltatrici per averci seguito a presto denise arcieri avete ascoltato voci della chiesa iblea un programma della redazione di radio caris in blu ragusa